Come rendere questo Ramadan il migliore di sempre Molti musulmani stanno affrontando questo Ramadan come tutti i Ramadan degli anni precedenti. Hanno le loro abitudini, la loro solita routine, la loro adorazione. È facilmente prevedibile da un Ramadan all'altro. Possono avere gli stessi orari per il Tarawih, leggere lo stesso numero di versi del Corano o eseguire tipi simili di Ibada. Finiscono per uscire dal Ramadan proprio come hanno fatto l'anno scorso. Immagina se il tuo migliore amico si avvicinasse a te dopo il Ramadan e ti chiedesse «Come è stato il tuo Ramadan?» e che la tua unica risposta potesse essere «Ho avuto il miglior Ramadan di sempre!» Significherebbe che hai compiuto tutto ciò che avevi deciso di completare durante il mese. Questo dovrebbe essere l'obiettivo di ogni musulmano, massimizzare il proprio Ramadan e ricavare quante più benedizioni possibili da questo mese. In questo video scopriamo i 6 consigli per rendere il Ramadan di quest'anno il migliore di sempre. Primo. Vivi questo Ramadan come se fosse l'ultimo. Davvero. Prova ad avvicinarti al Ramadan di quest'anno come se fosse l'ultimo. Non vi è alcuna garanzia che vedrai il Ramadan l'anno prossimo, quindi preparati di conseguenza a quello di quest'anno. Questa è l'ultima volta in cui potrai digiunare in questo mese benedetto, recitare il Tarawih e completare la lettura del Corano. Questo tipo di mentalità genera uno stato di emergenza e dall'emergenza nascono concentrazione e determinazione. Le tue priorità cambieranno, sapendo che questa è la tua ultima opportunità per approfittare di questo mese benedetto. La qualità della tua preghiera migliorerà sicuramente se adotterai questa mentalità. Il Kusho nella tua preghiera migliorerà. Il tuo approccio alla comprensione della Ya'a, del Corano, cambierà. Per illustrare ulteriormente questo punto, immagina lo scenario in cui un tuo parente stretto che vive all'estero sta programmando un viaggio per farti visita. Questo tuo parente ti dice che sarà l'ultimo viaggio che farà nella tua città. Immagino che pianificheresti la sua permanenza con più attenzione, comprendendo il valore del tempo. Non daresti per scontato il tempo da passare con lui e apprezzeresti ogni singolo momento trascorso insieme. Fai la stessa cosa con questo Ramadan. Secondo, stabilisci degli obiettivi per questo Ramadan. Tutti fissano degli obiettivi che si tratti di decisioni personali, obiettivi di performance per i nostri lavori o per pianificare una vita migliore per i nostri figli. Sorprendentemente, molti musulmani non fissano obiettivi né pianificano la loro Ibada per il mese di Ramadan. Con così tanto impaglio durante questo mese, attraverso le asanah, buone azioni, e istighfarra, perdono da parte di Allah, per i nostri peccati passati, non facciamo un piano o stabiliamo obiettivi per noi stessi? Era abitudine dei musulmani nelle prime generazioni dell'Islam di pensare e riflettere su ciò che volevano ottenere prima della Ramadan. Durante il mese stesso, tenevano traccia dei loro progressi e apportavano modifiche al loro stile di vita se rimanevano indietro. Avevano capito l'obiettivo che volevano realizzare alla fine del mese e hanno seguito il loro piano per raggiungerlo. Ora, prenditi il tempo per fissare alcuni obiettivi in termini di ciò che vuoi ottenere durante questo mese e da questi obiettivi butta giù un piano per descrivere come pensi di raggiungerli. Ad esempio, se il tuo obiettivo è recitare il Corano, dalla prima all'ultima pagina, durante la Ramadan, forse il tuo piano potrebbe essere quello di dividerli in parti, fino a circa un juz al giorno. Quindi, un programma su base giornaliera potrebbe prevedere di leggere 20 minuti dopo il Fazir, altri 20 minuti prima di Dur e altri 20 minuti dopo Maghrib. Magari nei giorni in cui hai un po' più tempo, puoi fare qualche lettura extra per recuperare i giorni in cui sei rimasto indietro. Prova a fissare un obiettivo e il modo in cui puoi raggiungerlo. Vedrai un'incredibile differenza. Non pianificare. È un perfetto piano per fallire. Terzo, allenati per il Ramadan. Se sei mai arrivato prima di all'inizio di una partita di basket o di calcio, avrai visto i giocatori scaldarsi in campo. I calciatori fanno degli esercizi di riscaldamento e provano dei tiri per prepararsi al meglio alla partita. Quando il gioco inizia, i loro muscoli sono rilassati e sono pronti a giocare. Tornando al Ramadan, dovremmo affrontarlo nello stesso modo. Durante il mese di Shaban, aumenta la tua Ibada. Pratica alcuni digiuni, aumenta le tue letture del Corano, dai del Sadakah in più e migliora la tua Ibada totale. Quando arriverà il Ramadan, sarai già allenato e potrai subito metterti all'opera. Molti musulmani approcciano il Ramadan proprio come se fosse un interruttore. Lo attivano il primo giorno e passano in modalità Ramadan. Questo è analogo allo sprint durante i primi chilometri di una maratona. Avrai molta energia e motivazione all'inizio, ma dopo alcuni giorni, ti renderei conto che questo ritmo non è sostenibile. Ce ne accorgiamo anche nelle moschee per la preghiera del Tarawih. I primi due giorni sono pieni di musulmani, mashallah. Poi, nella seconda settimana, la folla diminuisce notevolmente e continua così fino alle ultime dieci notti, quando aumenta nuovamente. Cerca di approcciarti alla Ramadan in maniera graduale e crescente, così da mantenere una certa costanza durante tutto il periodo. Quarto, elimina le distrazioni. Per raggiungere gli obiettivi che hai fissato durante questo mese benedetto, sarà sicuramente necessario fare dei sacrifici e scendere a dei compromessi. Quello che dovremmo considerare di eliminare sono le molte distrazioni che ci circondano. Ciò include ridurre al minimo la visione della televisione, le conversazioni futili con i nostri amici e l'uso dei social media. Le distrazioni consumano il nostro tempo e ci allontanano dal ricordo di Allah. Durante il mese di Ramadan il nostro tempo è un premio. I nostri orari devono conciliarsi con il suhor mattutino, il pisolino occasionale durante il giorno e le preghiere notturne. Se permettiamo alle nostre distrazioni quotidiane di continuare per tutto questo mese, ci priviamo delle immense benedizioni a disposizione. A casa, cerca di creare un'atmosfera che ti incoraggia a raggiungere i tuoi obiettivi. Questo può significare spegnere la TV, eliminare film e videogiochi. Magari potresti modificare la routine quotidiana in modo che la tua famiglia abbia il tempo di leggere il Corano insieme e di pregare insieme il Tarawì nella moschea più vicina. Quinto, dai da mangiare ai bisognosi. Per rimediare al digiuno, alcuni musulmani decidono di abbuffarsi durante il suhor e l'iftar. Questo tipo di mangiare eccessivo va contro lo spirito della Ramadan. Lo scopo del nostro digiuno non è la semplice astinenza di cibo e bevande. Allah ha prescritto il digiuno come mezzo per raggiungere la taqwa. Per poter raggiungere la taqwa è necessario essere consapevoli di quello che consumiamo, oltre ad aiutare coloro che sono meno fortunati. Dare da mangiare ai bisognosi è un atto nobile e segue lo spirito della Ramadan. Rasullah salalu alai wasallam la pace e la benedizione di Allah siano su di lui. Era noto per la sua generosità ed era particolarmente generoso durante il mese del Ramadan. Quindi cerca di essere più consapevoli nei confronti dei bisognosi e sforzati di dar loro da mangiare grazie all'abbondanza che hai. Riduci le sontuose feste di Iftar. Il nostro digiuno dovrebbe creare empatia con coloro che digiunano non per scelta ma perché non hanno altra scelta. Sesto. Ultime dieci notti. Aumenta la posta in gioco. Se il tuoi badà nelle ultime dieci notti è uguale alle precedenti venti allora non stai facendo abbastanza. C'è una notte la Yatul Kadra tra queste dieci che vale più di mille mesi di adorazione continua o in altre parole più di 83 anni. Molte persone saranno liberate dal fuoco infernale e molti altri prenoteranno il loro biglietto per Gianna durante questa notte. Il Laghilatul Kadra è un'immensa benedizione che è disponibile solo una volta all'anno. Dovrai fare un grande sforzo per aumentare la tua ibadà specialmente durante l'ultimo terzo della notte in cui Allah scende nei cieli più bassi cercando coloro che chiedono il suo perdono. È in questa parte di questa notte che Allah è più misericordioso. Fai del tuo meglio per mantenere la tua ibadà costante durante queste dieci notti. Alcune pratiche comuni in cui i musulmani si impegnano sono pregare Chiyam al-Lail leggere più versi del Corano aumentare la sadaka e naturalmente un sacco di dua. Prepara una preghiera con una lista di tutte le cose che vorresti chiedere al tuo Signore e recitala in ognuna delle ultime dieci notti. Se mantieni costante la tua ibadà in ognuna di queste dieci notti senza dubbio avrai il Laghilatul la Kadra. Infine cerca di organizzare tutti i tuoi acquisti per l'Aid prima del Ramadan. Questo ti permetterà di avere più tempo nelle ultime dieci notti per concentrarti su ciò che conta di più. Ramadan Mubarak a tutti voi possa Allah facilitare il raggiungimento dei vostri obiettivi durante questo Ramadan. Amin.